Le circolazioni nelle regioni del nord c'è e governa qui a Roma, è diviso, imposta all'opposizione, imposta in maggioranza e quindi è una situazione fluida in evoluzione. A certe condizioni si può ricompattare, a certe condizioni però noi non siamo disponibili a un'alleanza a prescindere dai contenuti. Salvini ha detto ci vorrebbe un miracolo per rifarci una tutizia, non lasci credere nei miracoli? Io sì certamente, non esiste salva lega, l'avete inventato voi. Lei che torna alleato? Sono come i carabinieri nei secoli fedele, io sono fedele alle idee e sono fedele ad una formazione politica, la Lega Nord a cui devo tutto, che ho contribuito a fondare, a mantenere viva, vivace, operativa e sono affezionato. E poi è un progetto suo che è ancora vivo e che è ancora attuale, è quello del nord, la questione settentrionale, quindi con alti e bassi ma è ancora lì e quindi non c'è motivo di cambiare, per convenienze personali non esiste per me questa cosa. Ma con Casini lei torna alleato? L'ho già detto, ci sono due schemi che proprio nella serata di stasera in memoria e in ricordo del ministro dell'armonia è giusto far presente. Lo schema 94, cioè un'alleanza elettorale per vincere e poi si vedrà. Che cosa si farà senza un programma, anzi un'alleanza strana perché Berlusconi e Forza Italia tenevano unita la Lega al nord e l'alleanza nazionale al sud, con l'un contro l'altro armati e infatti è durata poco e poi quella del 2001 è un'alleanza su un programma che è durata e ha governato. La prima cosa non mi interessa, la seconda sì, quindi se c'è un programma con le cose che piacciono a noi, la macro regione, il federalismo, il senato federale, allora sì, altrimenti ognuno per la sua strada. Ho letto sui giornali che centrodestra con Casini vince, senza la Lega però Casini o non Casini, non va da nessuna parte. Non si guarda sempre al futuro, la sfida è questa. C'è la possibilità di riaggregare tutto in una cosa nuova e non nel rifacimento, nel remake. Non voglio fare remake, se è una cosa nuova bene, se no non temiamo la sfida elettorale anche da soli. Ma che sceneggiate, è la protesta in aula, è la protesta in aula, il partito comunista negli anni 70 sradicava i banchi e li tirava in testa al governo, però era il partito comunista e allora si poteva fare, era politicamente corretto e noi non possiamo farlo. Su via, sono le cose che l'opposizione fa, le ho fatte anch'io quando ero capogruppo nel 2006. Non abbiamo portato le manette ma abbiamo portato le galline, le galline dalle uova d'oro, quindi va bene, è giusto farlo. Grazie.